Un segnale televisivo stabile e in alta definizione con un'offerta di canali di qualità. Questa è la promessa della nuova TV digitale terrestre, che per gennaio 2023 entrerà nelle case degli italiani. In questo scenario tecnologico, sempre in grande evoluzione, si va rafforzando il ruolo della piattaforma satellitare gratuita, TVSAT. Il sistema trasmissivo di TVSAT è già proiettato nel futuro e non prevederà nessuno switch-off. Rappresenta la soluzione più semplice per evitare risintonizzazioni e cambio di frequenze. A tutto questo va aggiunta l'opportunità di sfruttare al meglio le potenzialità dei televisori di ultima generazione. Con oltre 130 canali TV, di cui più di 60 tra HD e 4K, TVSAT può darti già oggi quello che il digitale terrestre ti darà domani.